No, no, mambo, ok, vi devo lasciare, mambo, mambo, ciao, ciao, dov'è la signora? No, 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 dov'è uscire, dov'è uscire, dov'è uscire dalla macchina, sì signora, è uscita dalla macchina. Che c'è, il bambino c'è? Lo prendo io, dai. Aspetta. Vieni, vieni, no, tanto sta uscendo comunque. Siamo andando a forza, posso dirà? Uscite per forza, nel cambio, vieni. Siamo andando a forza, vieni. Oppa, qua. Oh, oh, oh. Allora, sei riuscito a venire così verso da noi, così è diventato un misteriato. oh oh, vuoi fare un giro con la polizia? ok